Sono Federica Stufi, gioco come centrale alla giaggione volley. Ho avuto la fortuna di conoscere il dottore Fontana più o meno un mese fa. Quest'anno il mio campionato è iniziato più tardi e devo dire che è stata una fortuna. Mi ha introdotto nel mondo di Taopac. Sono partita da scettica, ma in quanto sportiva provo sul mio corpo tutto ciò che può aiutare il recupero muscolare e il miglioramento. E devo dire che fin da subito ho notato una differenza. E adesso ogni volta che ho dei dolori o dei sovraccarichi sono diventati il mio panno quotidiano e lo uso sempre. Il dottor Fontana, dopo avermi fatto un'attenta visita, mi ha dato di Taopac da utilizzare tutti i giorni in due punti particolari per mantenere l'equilibrio del corpo e la forza. Uno è qua e uno è qua dietro. Attraverso i test c'era un fattore di stress molto forte e quindi adesso sto utilizzando gli emozionali. E a seconda delle varie settimane di come procedono ci può essere che picchi il gomito o la spalla e quindi li uso anche per aiutare a far circolare meglio tutto e obiettivamente riesco a recuperare prima. Se dovessi descrivere Taopac lo descriverei come colorato perché comunque a seconda della funzione hanno dei colori diversi e per me i colori nella mia vita sono una componente in più. A me mi cambiano le emozioni già entrare in un posto colorato o un bel mare celeste. Lo descriverei come fluire perché almeno per me, per la mia esperienza che ho con Taopac, sento più calore al momento che li applico nelle zone magari dove sono più indolenzita. Se dovessi trovare un terzo aggettivo direi geniali perché penso che in questa tecnologia e in tutto il lavoro c'è dietro sembrano una cosa molto semplice. Li vedi non è che sono pesantissimi, sono facili da trasportare, sono facili da utilizzare, però racchiudo dentro un'idea, un pensiero, racchiudo dentro dalla filosofia orientale alla medicina che anzi è molto all'avanguardia. Quindi per me questa è Taopac.